Ok, mi saluto a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo, ma quest'oggi ragazzi siamo su Dashiro Ragazzi quest'oggi vi dovrei parlare di alcune cose molto ma molto importanti, ovvero ragazzi che se ne fondiamo questo possiamo ottenere un'armatura come questa Quindi molto più forte e molto più resistente, va bene anche queste che sono anche molto forti, ma soprattutto sono molto più forti queste, eccola qui E va bene ragazzi, ci vediamo il prossimo episodio di Dashiro Grazie